benvenuti in questo nuovo video siamo al video numero 5 per quanto riguarda gli esercizi sulla risposta al transitorio abbiamo il circuito in figura con un generatore di corrente e un interruttore che al tempo t uguale 0 si chiude bisogna determinare la corrente con 0 nel ramo dove si trova l'interruttore la corrente icon 1 che scorre in r1 la corrente icon l che scorre nell'induttore per t maggiore di 0 a t uguale 0 15 secondi e allora come prima cosa andiamo a vedere cosa succede per t minore di 0 dopo che è trascorso il transitorio e siamo al regime perché ricordo se non è specificato la condizione è questa quindi per t minore di 0 la corrente icon l è la stessa che percorre r2 l'induttore si comporta come un cortocircuito e quindi abbiamo un partitore di corrente formato da r1 ed r2 andiamo a scriverlo ora per scrivere le equazioni della corrente icon l abbiamo bisogno della corrente icon l in questa situazione calcolarla è semplice dobbiamo riferirci alla formula del partitore di corrente quando abbiamo due resistori in parallelo infatti r1 e r2 sono in parallelo e quindi la corrente icon l sarà uguale a r1 fratto r1 più r2 per icon s la corrente generata dal generatore di corrente scusate e questa sarà uguale a 8 r1 fratto 8 più 2 cioè 10 per 2 ampere semplifichiamo 8 diviso 5 è 1,6 quindi 1,6 ampere possiamo calcolare anche la corrente i1 o riapplichiamo la forma del partitore soltanto che al posto di r1 mettiamo r2 e quindi r1 r2 fratto r1 più r2 per icon s uguale 2 fratto 10 per 2 cioè due quinti di ampere cioè 0 4 ampere oppure molto più semplicemente potremmo sottrarre a icon s icon l che chiaramente ci dà lo stesso risultato 0,4 ampere ecco queste sono le condizioni iniziali a t uguale 0 meno delle correnti in r1 r2 ed l ora per t a 0 più ridisegniamo il circuito modifichiamolo cioè chiudiamo l'interruttore e vediamo cosa succede qui siamo a t maggiore di 0 allora l'interruttore cortocircuita r1 quindi concludiamo subito che i1 è uguale a 0 andiamo a scriverlo calcoliamo la costante di tempo del circuito e quindi tau l è uguale visto che in r1 non scorre corrente è come se non ci fosse abbiamo l fratto r2 e cioè 0 4 r fratto 2 ohm e questo ci ci dà 0 2 secondi come costante di tempo quindi 200 millisecondi possiamo anche scriverlo come 200 millisecondi la corrente che dipende dal tempo è uguale alla corrente iniziale cioè 1,6 per e alla meno 5 t dove 5 è l'inverso di 0 2 e qui siamo ampere e per t uguale 0 15 avremo i con l di 0 15 uguale a 1,6 per e alla meno 5 per 0 15 cioè 1,6 per e alla meno 0 75 che è 3 quarti cioè scriviamo anche questo passaggio 1,6 fratto e alla 0 75 vale a dire 0 virgola 756 ampere oppure 756 mili ampere questa è la corrente a 0 15 secondi dalla chiusura dell'interruttore nell'induttore e anche in r2 la corrente nel ramo dell'interruttore cioè i 0 sarà data se consideriamo questo nodo che vado ad indicare come il nodo a sarà data da icon 0 uguale a icon s meno icon l icon s entra nel nodo a icon l e icon 0 escono dal nodo a e quindi con i dati forniti dal problema e con quello che abbiamo appena calcolato avremo 2 meno 0,756 ampere che ci dà 1,244 ampere magari specifichiamo che questa è l'equazione al nodo a quindi legge di kirchhoff delle correnti al nodo a bene come sempre andiamo a simulare il circuito con ltspice apriamo un nuovo schematico recuperiamo i componenti quindi abbiamo bisogno di un generatore di corrente current ok lo giriamo abbiamo poi bisogno di due resistori quindi r1 in parallelo con il generatore di corrente r2 che dobbiamo porre in orizzontale e poi l'induttore mettiamo il potenziale di riferimento e connettiamo il tutto dobbiamo anche creare il ramo dell'interruttore chiuso e poi andiamo a dare i valori ai componenti eliminiamo anche la resistenza serie nell'induttore cioè consideriamo un induttore ideale scriviamo la condizione di corrente iniziale nell'induttore che è 1,6 ampere e poi andiamo a scrivere la direttiva di simulazione che è il transitorio che possiamo prolungare per due secondi cioè 10 volte tau bene siamo pronti a simulare c'è un errore probabilmente ho scritto L invece che I proviamo a modificare riavviamo la simulazione sì l'errore era quello quindi adesso rileviamo la corrente in L1 e andiamo a vedere a 0,15 e qui sulla scala non abbiamo ma siamo circa qui e quanto vale la corrente vedete 0,745 andiamo un po' più su perché siamo a 0,154 e con le approssimazioni del caso direi che pochi millesimi di ampere non fanno la differenza probabilmente non riusciremo a rilevare la corrente nel ramo dell'interruttore perché questo vedete ci dice che è riportato a terra e chiaramente R1 è cortocircuitata dal ramo dell'interruttore la conferma comunque della bontà del calcolo è la corrente in L1 e quella ci torna bene per questo video finiamo qui in basso a destra trovate il tasto per iscrivervi al canale attivate la campanellina in modo da essere aggiornati automaticamente sulla pubblicazione dei prossimi video se il video vi è piaciuto e soprattutto se vi è stato utile mettetemi anche un like e vi ringrazio condividetemi sui vostri social così che potremo aiutare più persone possibili e anche far crescere il canale perché no in descrizione i miei contatti mail instagram facebook grazie un saluto a tutti e vi rimando al prossimo video